Cominciare la bimbo ciao! Che cosa usare per la tua polpetta? Amore. Che tipi di carne usare? Una mista di vitello, mayale e carne. Beef? Beef one. Pork? Pork. Since there's no veal in town, it's bison. Pork? 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.